È arrivata la nuova collezione. Da oggi Ake e Lizzaloo Curvy Girl vi propongono l'abbigliamento autunnale adatto per tutte le esigenze. Ake è moda per teenagers, ragazze e donne moderne, con accessori e abiti originali e di tendenza. Lizzaloo è moda comoda con taglie dalla 44 alla 54, abiti pratici, eleganti, da cerimonia. Ake e Lizzaloo, venite ad indossare la nuova collezione ad Agropoli, Lungomare San Marco. Facebook Ake Agropoli.